...di cultura e di libri con l'ultimo lavoro di Paolo Macri. Cos'è stata la destra italiana? Un lungo percorso dalla resistenza alla questione monarchica, passando dalla nascita del movimento sociale italiano, anche attraverso il ruolo dei suoi leader, da Almirante, Fini e Berlusconi, arrivando a Giorgia Meloni, nel libro La destra italiana da Guglielmo Giannini a Giorgia Meloni di Paolo Macri, edito dalla Terza, e presentato questa mattina per iniziativa del sabato delle idee presso il NAP Hub Spazio Eventi. Era importante capire un po' le radici di quello che c'è oggi, diciamo, le radici di Giorgia Meloni, detto con uno slogan, e non è facile, perché appunto la storia della destra è una storia tortuosa. Parliamo di partiti che fino al 1994, e quindi per 50 anni, sono stati ai margini del sistema politico, ai margini del gioco parlamentare, sono stati delegittimati abbastanza nettamente, diciamo così, dai partiti di governo, quindi diciamo dal centro-sinistra della democrazia cristiana e dei suoi alleati. L'incontro con l'autore stamattina è in uno spazio dedicato al dibattito e al confronto moderato da Marco De Marco con la presenza dei professori Mauro Calise e Sebastiano Maffettone e il giornalista Italo Bocchino. Ma a me piace ricordare che la presentazione del libro è solo un'occasione per poter parlare di politica. Il sabato delle idee non è mai stato legato e non è legato a nessun partito politico, perché ne fanno parte istituzioni e individui che hanno naturalmente ognuno di loro la propria libertà di azione e di pensiero.